un saluto a tutti voi buon lunedì buon inizio di settimana e soprattutto benvenuti a un nuovo episodio dell'italiano in podcast siamo alla puntata 202 un bel numero grande anche questo e questo è l'episodio di lunedì 3 maggio 2021 come ogni giorno purtroppo per voi ci sono io qui sono Paolo non c'è un'altra persona che può fare questo al posto mio quindi anche oggi sono io a farvi compagnia per qualche minuto per parlarvi un po della mia giornata e di qualche notizia dall'italia sempre per aiutarvi a fare pratica di ascolto e a fare pratica di comprensione della lingua italiana e vediamo un po cosa è successo in questo lunedì 3 maggio 2021 la giornata è come ogni lunedì inizia presto per me perché ho un appuntamento circa alle 7 30 del mattino quindi mi alzo un po più presto del solito e questa mattina non ho preso il caffè prima di cominciare la mia conversazione di solito lo faccio sempre molto presto senza zucchero ovviamente oggi è il giorno di digiuno quindi niente zucchero nel caffè di solito ne prendo molti ma oggi non è stato così poi vi spiego meglio quindi la giornata è iniziata presto con un incontro e è stato anche l'unico incontro fino al pomeriggio poi oggi ci sono state solo tre conversazioni come tutor quindi la giornata non è stata molto impegnativa ma ovviamente c'è anche una vita personale c'è anche una vita privata quindi come sapete bene i miei impegni possono essere molti anche nella in altre situazioni quindi dopo questa conversazione ho dovuto fare una serie di cose personali come uscire e fare alcune commissioni in giro per la città non per molto tempo però sono rientrato sono ritornato a casa e mi sono dedicato a dalla creazione di un piccolo esercizio di grammatica con un testo scritto da me sull'inferno di dante ho voluto parlare un po di questa cantica la prima dell'opera del capolavoro di dante alighieri e ho usato questa descrizione che ho fatto per un esercizio sulle preposizioni ho fatto una piccola battuta su instagram ho detto che c'è un girone speciale che è quello delle preposizioni ed è per tutti voi studenti di italiano che andate vagate dentro questo girone come come delle anime perse in cerca di una risposta ai miei esercizi sulle preposizioni ovviamente io appartengo a tutti quei demoni che vi torturano con questi esercizi e con questa maledetta grammatica che può essere così odiosa a volte però non credo che l'esercizio fosse troppo difficile quindi io spero che molti di voi lo abbiano visto e abbiano provato a uscire da questo inferno con le risposte giuste ma in ogni caso c'è sempre un buon esercizio di ascolto alla fine della pagina in fondo al testo c'è sempre la soluzione e ed è un audio un file audio in cui io leggo il testo integrale cioè quello che contiene anche le preposizioni giuste vi invito a fare questo esercizio se non l'avete fatto o almeno a leggere e ad ascoltare questo testo sull'inferno di dante dopo la preparazione di questo esercizio ho accompagnato per una breve passeggiata sotto casa mia madre che era un po stanca di stare in casa ovviamente io non ho troppo tempo quindi non può uscire tutti i giorni visto che ha bisogno di aiuto per questo e visto che mio fratello è ancora positivo quindi purtroppo lei deve aspettare che io trovi un po di tempo tra le tante cose da fare oggi ho deciso di dare del tempo a questo perché era un po erano alcuni giorni che non scendeva da casa dalla sua casa e quindi mi sembrava giusto dedicare del tempo a questo insomma quindi ovviamente non c'è stato un pranzo ho continuato e ho finito questo esercizio di grammatica più o meno durante l'ora di pranzo una breve pausa un breve riposo del primo pomeriggio le prime ore del pomeriggio ma poi dopo forse meno di un'ora di questo riposo è arrivato il momento di organizzarmi per la corsa non correvo da mercoledì scorso quindi quattro giorni senza allenamenti e oggi non potevo saltare devo dire che la giornata non era la migliore dal punto di vista fisico sabato e domenica mi sentivo molto bene molto rilassato oggi non so perché mi sono svegliato con un senso di stanchezza fisica però ho bevuto molto di solito sento questa stanchezza il lunedì durante il digiuno se non bevo molto ma durante la giornata ho bevuto tanto e quindi non so perché ma avevo questa sensazione di stanchezza ma non potevo rinunciare alla corsa anche oggi quindi sono uscito anche se per me era chiaro che non avrei fatto una grandissima corsa sarebbe stata un po più lenta del solito e forse più corta quindi più o meno sono intorno alle 5 sono uscito per dopo una buona preparazione ma un piccolo dolore alla schiena un collo che oggi mi ha torturato un bel po mio collo oggi era davvero molto capriccioso mi dava molto fastidio mi ha dato molto fastidio e anche questa sensazione di stanchezza insomma tutto insieme mi ha fatto davvero pensare fino alla fine su questa corsa insomma uscire non uscire ma quattro giorni sono tanti e quindi ho deciso di uscire lo stesso non è andata malissimo all'inizio sono partito piano poi ho avuto un po di accelerazione nella prima metà della corsa ma davvero le gambe erano un po pesanti pesanti significa che non si muovevano in modo come dire facile si sentivano sentivo un po difficoltà sulle gambe proprio stanchezza si quindi quando diciamo pesanti vuol dire che fanno proprio fatica a muoversi si ha questa sensazione di posso definirlo gonfiore forse che sembra bloccare un po le gambe con la corsa migliorato ovviamente i muscoli si sono sciolti un po ma la sensazione di stanchezza è rimasta per tutto il tempo per fortuna c'è la musica ogni volta che ho ascoltato una canzone che mi piace molto questa questo senso di stanchezza è diminuito quindi le mie prestazioni sono aumentate un po non ho fatto proprio schifo nel senso che non è andata troppo male ma è stata la peggiore corsa delle ultime tre quattro settimane ho corso 9 chilometri e non 10 come di solito faccio lunedì e il tempo beh non è stato pessimo non è stato così terribile ma neanche un grandissimo tempo sicuramente molto peggiore dei tempi che in questi ultime settimane in queste ultime settimane faccio di solito sono sempre sotto i sei minuti per ogni chilometro come media di velocità oggi ero sopra i sei minuti circa sei minuti e otto secondi per ogni chilometro ma come ho detto non era troppo male tornato a casa un po senza forze dovevo solo resistere altre due ore due ore e mezza prima di cena ho fatto un'ultima lezione la seconda lezione della giornata e poi ho sistemato alcune cose importanti dovevo telefonare mio fratello e sistemare un'altra cosa ma dopo questo finalmente è arrivata l'ora della cena oggi ero stanco avevo fame devo dire la verità mi sentivo un po debole per tutta la giornata sono stato un po debole e quindi la cena era davvero importante oggi non è stato come altre volte in cui avevo la sensazione di poter continuare fino al giorno dopo oggi no oggi forse sarei svenuto senza una buona cena ho mangiato una bella insalatona una bella insalata grande con molte cose e quindi la situazione è subito migliorata e quindi poi dopo questo mi sono concesso anche un piccolo dolce niente di particolare e il caffè oggi ho preso solo due caffè ovviamente senza zucchero amari quindi ma forse anche questo ha fatto un po di differenza perché davvero oggi ho solo bevuto una buona quantità di acqua ho preso solo due caffè e un integratore di sali minerali e vitamine prima di uscire per la corsa di solito lunedì prendo più caffè durante la giornata quindi è possibile che questa stanchezza è stata sia stata causata da questo non lo però sicuramente è stato uno dei peggiori lunedì di digiuno negli ultimi due mesi o tre mesi forse quindi sono contento che sia arrivata alla fine del digiuno spero che la prossima settimana sia un po' meglio sono sicuro che sarà così in realtà tutto qui per questa giornata di digiuno alla fine ho fatto le mie 23 ore come previsto come vi avevo detto ieri però oggi posso riassumere così è stata dura è stata un po' dura anche se in fondo non ho lavorato molto durante il giorno però non è stato facile oggi bene per me quindi per quanto riguarda me è tutto qui vediamo un po' quello che è successo in italia oggi la prima nutrizia molto brutta è arrivata subito nella mattina e si tratta purtroppo di un altro naufragio davanti alle coste della libia un'altra piccola imbarcazione un gommone è affondato davanti alle coste della libia con molti migranti a bordo quindi molti di loro sono morti purtroppo si parla di 50 persone morte in questo questa catastrofe in questo disastro e quindi ancora una volta il mare ha portato via altre vite purtroppo questo viaggio è abbastanza facile spesso ma in alcune situazioni può essere terribile e mortale perché facile non è davvero credo che oggi ci fosse del mare mosso anche in quella zona esattamente come qui da me e probabilmente questo ha causato il naufragio di questo gommone di questa imbarcazione gonfiata con aria praticamente molto spesso queste persone partono su queste piccole barche diciamo con un numero troppo grande di persone e con il mare agitato con le onde molto alte a volte questo causa problemi il peso di tutte queste persone può far ribaltare quindi può causare il ribaltamento della nave dell'imbarcazione e purtroppo è probabilmente quello che è successo oggi molti migranti sono stati soccorsi ma come ho detto circa 50 sono dispersi e quindi morti quasi certamente in questo naufragio speriamo che questo tipo di problemi in futuro possa diminuire e si possa trovare una soluzione che garantisca la sicurezza a tutti e soprattutto che blocchi questi trafficanti di uomini che sono veri trafficanti di uomini come in tempi molto passati la loro merce sono gli uomini e queste persone sono orribili e sono anche italiani a volte perché c'è chiaramente una connessione tra criminali dalla parte libica e criminali dalla parte italiana mi vergogno di questi italiani sono proprio queste persone che distruggono il nostro paese e che distruggono anche le vite quindi io spero che possano essere arrestati possono essere puniti per questo e che queste persone non siano più costrette a fare questi viaggi disastrosi e pericolosi per cercare un po di fortuna bene l'altra notizia importante di oggi è questa polemica per la festa che c'è stata ieri nelle piazze di milano per festeggiare lo scudetto dell'inter lo scudetto è il modo in cui noi diciamo il modo che utilizziamo per indicare la vittoria del campionato quando una squadra di calcio vince il campionato di serie a ovviamente noi diciamo che ha vinto lo scudetto perché questo era una specie di distintivo che l'anno successivo poteva essere attaccato sulle maglie di questa squadra questo distintivo si chiama proprio scudetto per noi è un piccolo un piccolo distintivo una piccola piccolo modo di indicare che quella squadra è la squadra campione d'italia quindi l'inter ha vinto lo scudetto ovviamente purtroppo tanta gente è scesa in piazza senza rispettare le regole di sicurezza difficile evitarlo difficile fermare un po questa folla c'è molta polemica però tra il sindaco di milano la lega come sempre c'è sempre abbastanza una certa polemica tra i partiti di sinistra in questo caso il sindaco di milano è un esponente del centro sinistra è un politico del centro sinistra quindi si è creata subito una discussione molto accesa su questa festa in piazza che poteva essere rischiosa e comunque era contro tutte le regole ma speriamo che non ci siano conseguenze speriamo che non ci siano stati troppi contagiati ultima notizia non covid è quella che riguarda questa altra polemica quest'altra discussione che c'è stata per il concertone del primo maggio vi ho parlato di questo ieri questo concerto con molti artisti famosi che ogni anno si svolge il giorno della festa del lavoro il primo maggio bene uno degli ospiti uno degli artisti il suo nome fedez che è molto popolare soprattutto tre giovani qui in italia ha denunciato ha pubblicato alcuni audio e alcuni filmati in cui è evidente che alcune persone della rai hanno chiesto a questo famoso cantante di non parlare di alcune questioni politiche sul palco durante la sua esibizione fedez si è arrabbiato per questo ovviamente e ha denunciato subito questa cosa la rai ha smentito ha detto che non era vero ma poi fedez ha pubblicato dei video in cui dovrebbe essere chiaro che effettivamente c'è stato qualche suggerimento su cosa dire cosa non dire durante la sua esibizione non ho ascoltato in modo molto approfondito ma da quello che leggo sui giornali è chiaro che ci sono dei punti interrogativi cioè delle domande che non hanno avuto ancora una risposta e anche in questo caso vedremo nei prossimi giorni che cosa succederà veniamo invece adesso al bollettino covid veniamo invece vuol dire come dire vediamo adesso insomma è un'espressione che si usa veniamo a e come dire cambiamo argomento parliamo di questo argomento veniamo a al bollettino covid vuol dire passiamo a parlare del bollettino covid che oggi è fortunatamente abbastanza positivo sono contento del numero dei nuovi casi sono solo 6.000 praticamente un ottimo ottimo risultato il tasso di positività è al 5% circa il 4,9 purtroppo le vittime sono ancora 256 come dico sempre sono sempre troppe ma per fortuna diminuiscono diminuiscono ogni giorno e quindi questo può essere un motivo per sperare bene per le prossime settimane quindi dei segnali molto positivi il contagio sembra diventare meno importante e per fortuna salgono anche i vaccinati siamo a 21 milioni ormai 21 milioni sono le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino mentre 6 milioni 348 mila hanno ricevuto tutto il ciclo vaccinale quindi hanno completato il ciclo vaccinale numeri molto buoni che spero possano contribuire a far finire questo questa epidemia in italia molto presto vedremo ovviamente ogni giorno vi tengo aggiornati su questo intanto il generale figliolo questo diciamo questo uomo che è il vertice è il capo di tutta questa gruppo di lavoro o gruppo di persone di vari ministeri di vari parti della società che si occupa di fare dei progetti dei programmi per gestire l'epidemia bene figliolo ha detto che adesso si pensa all'uso di astrazeneca anche per le persone con meno di 60 anni adesso infatti questo vaccino viene utilizzato solo per le persone con più di 60 anni ma secondo il generale forse in futuro c'è la possibilità di usarlo anche con gli under 60 cioè le persone con meno di 60 anni questa l'ultima notizia per oggi quindi non c'è altro da aggiungere oggi voglio chiudere questo episodio in un tempo più breve di ieri è un po troppo lungo più di 30 minuti quindi passiamo sicuramente alle rubriche finali con gli anniversari e compleanni di personaggi famosi e l'aforisma del giorno non ci sono anniversari come fatti come avvenimenti ma c'è un anniversario della nascita di un importante personaggio italiano niccolò macchiavelli il famoso autore del principe è nato il 3 maggio del 1469 552 anni fa ovviamente si tratta di un personaggio molto popolare in tutto il mondo e la sua il suo la sua opera il principe è letto in molte lingue è stato tradotto in molte lingue e viene considerato un un libro importante nella letteratura mondiale un contemporaneo invece che oggi compie gli anni è il grande massimo ranieri un cantante attore intrattenitore presentatore tv una carriera lunghissima e quindi facciamo tanti auguri a massimo ranieri per i suoi 70 anni perché è un personaggio molto simpatico e molto molto amato da tutto il pubblico italiano con lui chiudiamo anche questo questa rubrica e passiamo quindi a l'ultima quella dell'aforisma del giorno e cioè la frase celebre dell'italiana o dell'italiano celebre oggi ho scelto per voi questo aforisma dalla vetta non si va in nessun posto si può solo scendere molto interessante una frase molto bella secondo me di un personaggio contemporaneo scoprite voi se è un'autrice un autore e qual è il suo lavoro qual è la sua attività principale con questo è tutto per questo lunedì 3 maggio 2021 l'appuntamento è sempre per domani con un nuovo episodio dell'italiano in podcast per oggi vi saluto e ciao a tutti